Nona vittoria stagionale, la seconda consecutiva che gonfia la classifica di due punti che assomigliano a due solidi mattoni verso la salvezza. La Carpegna Prosciutto-Pesaro vince e convince a Varese, espugnando dopo sette anni il parquet Lombardo col punteggio di 76-87. Approccio giusto, solidità e praticità per la soddisfazione di coach Luca Banchi. Per noi è una importantissima vittoria in prospettiva al cammino che ci attende per riuscire a centrare la salvezza in un campionato così combattuto dove vedete come le cose possano cambiare repentinamente e dove ogni sera non ci sono pronostici scritti. Noi siamo riusciti a approcciare bene la partita, soprattutto in attacco, questo ci ha permesso di controllare abbastanza il ritmo, però Varese ha queste caratteristiche, deve avere la forza e la consistenza di resistere. Abbiamo sofferto la loro vehemenza al rimbalzo d'attacco nel primo tempo, garantendo troppe seconde opportunità e poi nel secondo tempo qualche palla persa di troppo, alcune delle quali a testimoniare la loro grande aggressività e non sempre la nostra prontezza a saper sfruttare le occasioni che quella aggressività ci dava. Ma io ritengo che nel complesso siamo riusciti a giocare 40 minuti di buona consistenza, non era semplice trovando una squadra così in fiducia per quanto penalizzata dalle assenze e quindi riconosco alla squadra il merito di aver giocato anche con cinismo nel finale, trovando protagonisti diversi capaci di trovare buone conclusioni in attacco e tenere a distanza il tentativo di rimonta di Varese. Pesante vittoria salvezza anche nel volley dove la Megabox Vallefoglia vince al tie-break un match infinito per 2-3 in casa della Savino del Bene Scandici. Nel calcio 5 l'Ital Service è invece già con la testa le fanalè di Coppa Italia che inizieranno giovedì a Salso Maggiore contro il Ciampino Agniene. Una coppa alla quale la squadra di Coach Colini arriva da prima in classifica dopo la conferma della vittoria di venerdì per 2-1 contro i torinesi della L84. Vittoria in rimonta decisa dai gol di Salas e di Oliveira. Sconfitta per la Pesaro Rugby che a Roma invece cade 43-18 in casa della capolista Unione Rugby Capitolina. Sconfitta netta e forse preventivabile invece per la Vispesaro che nel sabato al Benelli assiste a una marcia trionfale della capolista Modena che vince 3-0 una partita senza storia contrassegnata dalle reti di Minesso, Mosti e Scarsella. Sconfitta a parte, la Vispesaro si mantiene ottava in classifica e pensa alla prossima trasferta di Carrara. Il Modena oggi è stato superiore, è troppo forte. In questo momento loro vivevano un periodo diverso, se si può chiamare così, perché comunque venivano da 4 punti in 3 gare e una squadra che ha fatto questa cavalcata qui è normale che dopo questa flessione ti può sfoderare una partita importante come questa, soprattutto dopo l'ultimo pareggio dove avevano finito anche vivendo una partita in forte equilibrio. Noi dobbiamo pensare di portare in campo dei contenuti per rimanere competitivi e subito, fin dall'inizio, avevo detto anche preparazione di partita, il Modena non è più quello dell'andata, ti viene più aggressivo, cerca perlomeno non di sbilanciarsi ma di non farti costruire gioco. Abbiamo sicuramente peccato, questa volta non in frenesia ma in precisione, non c'è niente da dire. Abbiamo provato a rimanere dentro la partita, ha fatto qualche cambio, perdi 3 a 0 in casa contro il Modena, dobbiamo solo pensare che adesso la nostra situazione di classifica non è cambiata, dobbiamo ritornare a fare punti, dopo due gare 0 punti siamo ancora lì, l'avversario di domenica prossima sarà diverso.